I Guastafeste rispondono alla chiamata di Vajons 23, un progetto ideato da Marco Paolini che da 30 anni porta in giro per l'Italia uno spettacolo che è diventato la pietra miliare di un certo tipo di teatro di narrazione. L'idea è quella di dare la possibilità a tutti coloro che accettano la proposta di leggere, mettere in scena e portare fra le persone un testo rivisitato dallo stesso Paolini con l'aiuto di Marco Martinelli che parlasse della tragedia del Vajons nel giorno della ricorrenza del sessantesimo anniversario della frana più studiata in tutto il mondo e che è diventata un vero e proprio simbolo. A 30 anni dall'inizio di quel viaggio, di quello spettacolo e a 60 anni dalla frana del Vajons, Marco Paolini ha deciso di fare una specie di chiamata che riguarda tutto il teatro nazionale e non solo, mettendo a disposizione un testo semplificato sicuramente per permettere a tutti coloro che rispondono a questa chiamata di portarlo in scena o facendo delle letture drammatizzate o proprio portando, facendo una messa in scena e quindi lunedì 9 ottobre alle ore 21 ma anche in altri orari comunque sicuramente in tutta Italia più di 200 compagnie porteranno in scena questo testo per parlare di problematiche inerenti sicuramente l'acqua, la siccità ma per parlare quindi come simbolo del Vajons sicuramente e per celebrare quello che è successo e per ragionare intorno a come l'uomo si può relazionare con le emergenze che riguardano poi luoghi specifici. Per questo Vajons, cioè plurale, perché ogni realtà territoriale si trova sicuramente in Italia ma non soltanto in Italia a doversi confrontare con delle emergenze. E quindi noi come Guastafeste con l'associazione culturale rispondiamo a questa chiamata e saremo in una casa laboratorio, in una casa d'arte diciamo così all'interno di uno spazio che viene chiamato spazio inerte di Giampiero Gigliozzi e saremo a Peschiolo di Lucoli. Chiunque volesse delle informazioni o volesse anche partecipare ci può contattare sui nostri social, chi mi conosce anche sul cellulare. Quindi Vajons 23, Iguastafeste ci sono, ci siamo, Peschiolo di Lucoli lunedì 9 ottobre alle ore 21.